Eccoci qua ritornati ragazzi per la prima apertura del box X con Xerneas Ok, abbiamo già diviso i 20 pacchetti, cominciamo con i primi 10 della prima parte Ok, questi sono tutti e due Unlimited, quindi meno rari delle prime edizioni Vabbè, comunque a me non è che mi interessi tantissimo alla fine anche perché ormai sono introvabili Ok, questo dovrebbe essere il Team Magma, mi sembra Ok Professor... non ricordo Un professore comunque, questo è sicuro Ok, Staryu E vai, Frogadier, olografico, benissimo Questo è il Pokémon che ho preso nel gioco X Anzi no, scusate, Frogadier, questo dovrebbe essere Green Ninja, quindi ok Già ho detto una stronzata Vabbè ragazzi comunque ci può stare la confusione perché comunque ripeto Io ho queste ultime generazioni... oh bellissimo questo di Pikachu Non l'eseguo, ok, questo è Frogadier Perfetto, bellissimo questo Pikachu, ricordiamolo Bello Ok Terzo pacchetto Terzo pacchetto Anzi squadre quarto Sì Allora Taurus Poi Non conosco, ok Ok E starmi Perfetto Altro pacchetto E questo non lo conosco Ok, intanto la prima X Questo è Frogadier Esatto Dovrebbe essere... oh vai Menus Aurex Mamma mia, bellissima Ragazzi vai Vai, questa la volevo E mi è uscita Perfetto Godo Benissimo ragazzi, benissimo Ok Altro pacchetto Doppia Questo dovrebbe essere Chespin Boh Ok, olografica Sembra Un dolcetto Sto proprio Ok Bellissimo questa Ekans Ok E questa stellina Boh Allora Un attimo solo ragazzi Uno, due, tre Quattro, cinque, sei, sette Non vorrei aver mischiato Ok, perfetto Non ho mischiato Quindi Perfetto Credevo di aver mischiato i due pacchetti Ne ho presi uno da Da uno e uno dall'altro Invece no Ok, questa è un olografica Questa dietro Ok, Tauros Ok Coccodrillo Smirgle No, sì, no Sun spray Sun spray Scusate E questa Farfalla che non conosco Ok, non ho pacchetto Allora Starmi Questo Questo Skiddo Slugma Mi sembra Se non lo conosco Bellissima Energia Arcobaleno Bella 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 Anche se non è neolo E ne niente Però Mi piace Ok Ultimo pacchetto Quindi prima parte Terminata Quasi Ok Questo Spiega Corsola Non lo conosco Rivoluzione del coccodrillo E questo Che cazzo è? Un tron Un albero Boh Ok Pochissime trainer Benissimo Benissimo Almeno sembrano poche Ok ragazzi Per questa prima parte Tutto Ci vediamo tra poco Per la seconda parte A tra pochissimo